Ma registra pure quelli degli altri giorni Eh? Registra pure quelli degli altri giorni Anche Quelli di ieri avanti ieri di registrare Benjurino Dai vuoi fare un'altra? Dark? Si Vai sulla live? No Dai me non sono live No Non lo fai nemmeno per me Eh beh questo era il novio Pronto a prendere altri pali? No Devo tenere il monitor Eh tipo di solito cade il telefono Ma non il monitor eh No attaccala al muro sta cazzo di scrivania Dico appato di merda No Perché scusa? Io non c'ho gli ho tutti quei soldi La scrivania falla più vicino al muro con le mani Ah no no non vuoi spostare il muro sulla scrivania eh scusa Salvo ma tu ci sei ancora giocato Salvo ma tu ci sei ancora giocato Oddio non hai preso palo Eh appunto Non vale Holy fuck Holy fuck Dai che vedi i video adesso No Non è vero c'è anche prova E questo è un 50 e 50 Ah si? Così Oh 10 minuti Lo perso pure esplodendo l'altro Pur avendo esplodito Pure esploduto l'altro Ho visto c50 c50 E non sono esplodito Eh vabbè dai che cazzo salvo anzi non ho busto, para quest non ho busto, para quest che stregoleria è mai questa? che cazzone in una partita quello stava tornando e non pensava che finiva in mente la palla ecco gli anni però per l'aivlo sti è stronzo però si dai che ce l'hai minchia quando la fine perdiamo minchia non cagarmi il cazzo sulla schironia per favore mezzo ho vinto un altro 50 dai pareggiato dai dai che di merda eh pareggiato più che più spengro oddio ok allora se prendevo l'attraverso qua mi incazzavo talmente tanto acquittavi cosa fatta non prendo? che sta succedendo in questa partita? eh appunto trovo strano anche io poi ci svegliamo tutti sudati io sono sudatissimo no veramente tra il ridere e il monitor che cade 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 solo è caduto all'indietro il monitor è andata una botta e ti sei rilasciato vado a dar come gingone sei tu che sei di 50 hai perso 50 ah si minchia non mangiare il pollo di dai vai giù metta lì e non cagare il cazzo voi perchè ti tieni Yoshi alla fine? perchè Dark diggielo perchè Tek diggielo ahahah perchè Dark spiegagli un po Josh Josh diggielo dai no spiegagli Dark Josh diggielo io devo andare Joe ma ecco ecco ah ciao ciao Josh glielo spieghi un attimo salvo perchè Josh perchè un nome che cominciava con la Jay è figo ci sta detto tecco ma dimmi il nome del tizio che si scopo tua mattina scosso Josh ah ok allora neanche altro devo andare non è vero Josh se tu incontri uno che si chiama Josh quello vince sono delle bestie tutte quelle che si chiamano Josh sono delle bestie si davvero come si tutti allora? ahahah cazzo vuoi? ho fatto cadere al monitor e anche ho vinto abbiamo detto o abbiamo perso quella partita? vinto eh vedi ho giocato senza monitor ahahah proprio ci sta proprio ok ora accendo il monitor ahahah ahahah ok ora ora accendo il monitor ahahah 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 oh dio ma ma tu sei proprio una cosa? addio come ha fatto a vincere? come ha fatto a vincere? non lo so eravamo in due eh però quella era mia non può ahahah stavano 3 a 0 tu dovevi tornare a difesa per per me no zitto nappo no dai grazie no me l'ha dato no me l'ha dato cosa? cosa? attenzione non ho boost non ho boost porca puttana questo era goal tranquillo non serve boost lo so ah dark diglielo diglielo dai non fai il timido sbang ho preso la traversa io ahahah 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 salta sei scemo si ahahah mi pareva più lontano io non capisco le distanze ahahah ahahah che attira il cazzo fa ahahah 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 quasi no devo ritoccarla io ahahah 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 ah 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 a ecco vado anch'io no d'artida perchè non si può no ma io starei anche con il suo cazzo io non ci stessi lo sapevo che facciamo no dai ma vieni vieni dai sera va bene ma perchè non va nei video ma cazzo mi è caduto il monito cioè no 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 è andato giù il monito aspetta 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 Non è la nostra punta cazzo Andiamo quando lo capisci Oh si è un po' lì Ma hanno finito di esplodere Solo perché non è È andato giù il monitor Aspetta No 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 Mi devo asciugare le lacrime aspetta Oh no Oh no Ok Che merda Perché no È un bel gioco No io se perdo questa non gioco più No no se perdo questa Facciamo 1v1 No Sì dai 1v1 ci sta No Sì dai 1v1 1v1 ci sta sì 1v1 Nooo Scialla la cavalla Ma che cazzo ha Wazza Ma dio puttana Mi piaceva E mi piaceva No boost No Per forza Ora Ma Il Fak Grazie a tutti. Ma cosa cazzo? Ma... che... Cioè, non dico che non hanno fatto bene, però... Vai? Sì. Sono di là. Quanto l'ho spinto bene. L'ho tirata male. Ah, sì? Ah! Oh, che bello! Lo so. Che pare, più angolate le faccio più le pare. No, ho sbagliato. Ah, è il gol. No. Ha vinto un 5. Sei proprio sicuro? Sì. Sicurissimo. Figlio della merda, sì sì. No. Ho preso palo. Sì. È un po' quel coso che è uscito. Ma che... quanto è brutto. Bello. Anche questo palo. Ciò bello questo. Bello questo. Bello. Potrei farlo prima. Speck. Che mina. Che mina. Che mina. Che mina. No, dai, no. Quel palo era impossibile. Scusi. Eh, no. Non salire. Ma l'ho perso. Ma l'ho perso. Non si alza. Ma, no. 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 Da un po'. Non ho fatto che non è... Non è bene anche la supervelocità. che cazzo stai mangiando? che cazzo stai mangiando? che cazzo stai mangiando? ma ho preso un 50 no 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 ma do che culo sa fottere a questo ha saputo fottere prani è andata anche di culo a me è andata di culo lui è andata di punta non puoi rifare un'altra volta non l'ho toccata io? prima mi aspettavo il passaggio altrimenti non salivo figlio della merda maledetto che sei ma non posso passartela così ma si ho schifato troppo dritto no 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 che cazzo di culo se sono culati questi ma no 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 zio ma cosa cazzo stanno cinque parate hanno 1 più aggresifo ma che aggressivo oh fanno schifo ne... tu sei bravissimo te faccio schifo ooooh non si può giro 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 ma perchè sono ritardato? devo andarci eh no questo no però potevo anche missare volendo no non ce l'ho non ce l'ho il passaggio oh zio tu voti prima così io esco tu fai il cazzo che vuoi dopo l'ho maledetto ma l'ho maledetto ma l'ho maledetto ma l'ho maledetto ma l'ho maledetto l'ho maledetto s cambiamo gioco ma se c'è un 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 non non è possibile veramente esplos passare al muro passare al muro ah che palle madonna maledetta ma dio cane non ne posso scattare brugher dark no una posta che culo sono lanciato malissimo destra io lo sbombo cazzo ma va fa cola andò più o lo gioco la macchina ferma no 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 torno però sono stronti zio che ti ho liberato però bello si bello 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 per parte bello per parte no Che palo di merda Dio, tira, tira, tira Non potevo... Non ho colato anche... Ti ho preso di punta Non ho colato Ciali, ciali Ciali Ma destra? Uuuh, che merda No, ce l'ha lui Ma... Corri No, ce l'ha Non ce l'aveva mai Verso Pfff Ciali Minchia Ma altre che GC Qua siamo... Avanti Spank Non ce l'ho aspettata Sinistro Ehi. Ah. Arfai. Capisce te. Se ti fai segnare ti ammazzo Eh io che mi faccio segnare Nooo Eh guarda che ha tirato una sbomba a 102 km Nooo Puttana a lama a lina se tirato gioca né baspar Ma? Ma qua cosa? Eh ma hai visto cosa? Cosa? Eh Vota prima di scrivere, me ne fico un cazzo Cosa facciamo? Niente zio, basta No, GTA No Ci vuole troppo GTA Non arriva la pizza Guardando la pizza via GTA, arriva la pizza, si accende GTA Ok Vedi qua c'è un gioco di merda A me andava un po' tabletop però Dite quelle stronzate che in gioco d'inverno perché ti ho mato Giochiamo a giocare d'inverno? Intende tabletop, non vi va? Cosa vuoi giocare? Al copritavolo Capita? Charler Exploding Salta sopra sta merda di coso madonna di dio Coop o una sola? No Coop non mi ricordo le regole e non mi ricordo un cazzo Exploding Kitten quella che giochiamo io Io ho le regole di Exploding Kitten se non le so E poi tra poco mi arriva la pizza Non devi Spermi Le regole di Exploding sono tipo 2, ci vogliono 2 minuti contati Lo dico anche questo regolamento 2 minuti Per giocare o per spiegarlo? Per spiegarlo Per spiegarlo